e ciao a tutti bella gente di neverwinter sono calziano superstar ben ritrovati in questo nuovo video dove sarà puro scopo informativo per informarvi o ricordarvi perché già lo sapesse che dal 30 aprile all'ora 19 inizierà l'evento incantamenti doppi che finirà il 7 maggio alle ore 19 allora è uno degli eventi più importanti del gioco perché è un metodo per fare un sacco di punti raffinazione in tutte le maniere che ci danno punti raffinazione con i drop dei vari pietri incantamento con il drop dei dei punti raffinazione come gli opali neri eccetera eccetera quindi anche tramite mestieri e drop dei chili dei mostri drop aprendo certi scrigni quello che troviamo anche nelle schiene dei dungeon quelli con le chiavi incantate insomma tutto ciò che da punti che da pietra di incantamento che siano tipo radioso che siano le pietre incantamento che servono per le armi armature manufatti non i marchi ragazzi le pietre incantamento tutto ciò che è incantamento saranno dati doppi o che ragazzi quindi è un ottimo metodo per da sfruttare per cosa punti raffinazione anche per fare tanti diamanti astrali allora mi spiego allora per quel che riguarda i punti raffinazione allora uno deve occupare manufatti armi eccetera gli siano i punti raffinazione da raffinare per averne da peruppare appunto gli equipaggiamenti salto doppio quindi ottimo è un ottimo metodo un ottimo momento per aprire sacchetti del quartier maestro ok uno dicevano le pietre incantamento quelle viola va a farmare i dungeon in ii che li chiamo così nella mappa dell'anno del terrore è un buon modo si è per far male quelle pietre quelle pietre possono essere vendute che a fine evento per chi ha pazienza e non ha necessità di upare o di vendere o fare che cosa a fine evento costeranno più o meno come questi tempi qua dai 30 35 k durante l'evento 20 25 più o meno il prezzo è quello però quindi chi è a posto dice voglio fare i soldi più avanti ne andrà a farmare ne farà tanti a fine evento farà un sacco di soldi userà come oppure come merci di scambio c'è appunto di quei danni sono andati doppi e logicamente le pietre viola è un po più difficile tenerle ma già quando sono doppi ne droppi uno ne droppi due a volte capita normalmente può capitare che ne droppi già due sono quattro insomma su un cane ancora più rari logicamente però può capitare questo video informativo ragazzi per tutto quel che riguarda sia come droppare questi questi piti incantamento all'anno del terrore sia come aprire sacchetti quartier maestro non li aprite a casaccio ragazzi c'è un metodo per aprirli per massimizzare al massimo la raccolta dei punti raffinazione e anche per i mestieri ripeto se noi andiamo a creare quei mestieri uno pale sarà doppio se poi abbiamo un artigiano che ci dà la possibilità di raddoppiare le creazioni potrebbero essere quadrupli tripli o quadrupli dipende ok come come procca diciamo questo bonus per tutte queste cose io ho fatto dei video specifici ragazzi quindi andate a vedere quelli c'è fammi una domanda per volta su questo è più complicato ho fatto proprio un video perché che riguardano del terrore su come droppare questi incantamenti dove andare quando come perché stessa cosa per il quartier maestro ho fatto anche video su mentre sto facendo i mestieri per raddoppiare i guadagni insomma delle dei punti raffinazione e quindi andate a vedervi quelli sto sistemando man mano alle varie playlist in modo tale che anche per voi sarà più semplice andare a trovare un determinato video magari questo quello del non so esempio come droppare peter incantamento finiranno in quella utilità e consigli ok per quel che riguarda dungeon c'è proprio la playlist scuola di dungeon insomma andranno diverse playlist delle sto sistemando ok però nel frattempo tanto ancora c'è la manutenzione se avete voglia mentre aspettate fate qualcosa che volete vedervi un video se vi va andate a vedere cercate questi video che vi interessano o per le peter incantamento per il quartiere messo vedete voi quello che vi serve e guardate lì vi spiego tutto alla perfezione ok vi dico tutto come fare dove quando perché perché non dovete fare quello perché non da fare quell'altro ok fate molto prima ed è molto più informativo come video ok ragazzi io vi saluto vi invito a lasciare un like se il video vi è stato utile soprattutto vi è stato utile per trovare qualcos'altro di utile di iscrivervi al canale se vi interessano gli aggiornamenti dei vari video e attivate la campanellina e questa finora mi sa che non avevo mai detta chissà perché non c'ho mai pensato perché sono suonato vabbè noi ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando fino allora fatti bravi ok le vedo ci